Ciao amici, è tornato disponibile e in tanti lo stavate aspettando, lo spray igienizzante della linea Viderpur, è uno spray igienizzante a base di alcol al 70% con l'aggiunta di oli essenziali come il tea tree, come antibatterico e il più profumato a base di fico e ambra, così è ideale da poter utilizzare in ogni situazione e su tutte le superfici. È utilissimo da portare sempre con voi per igienizzare sia le mani, sia le mascherine lavabili e anche tutte le superfici, per esempio la scrivania, la tastiera, le maniglie, i locali pubblici, i trasporti pubblici, potete portarlo sempre con voi. E da oggi c'è anche una meravigliosa novità, potete trovare sempre il buonissimo spray, anche nel formato pocket da portare sempre in borsa o nello zaino, oppure nel maxi formato da utilizzare in casa o come ricarica per i formati più piccoli. Vi ricordiamo anche che la linea completa comprende anche il classico gel igienizzante mani, anche qui nel formato piccolo e tascabile, oppure maxi da ricarica o da tenere comodamente all'ingresso di casa. E altra novità, anche le salviettine monouso, che potete aprire e utilizzare proprio sigillate da portare sempre in borsa nello zaino, proprio come pronto intervento. Questi sono i prodotti che abbiamo scelto anche da usare noi in negozio. Passate a provarli, vi aspettiamo, ci trovate a Bernareggio in via Bonarotti 15. A presto, ciao!